ciao bentornato eccoci nuovamente qua con un'altra delle nostre analisi delle super stock con noi come sempre c'è fisio che ci racconterà un po di questo titolo un titolo apparentemente non proprio tecnologico ma che in realtà al suo interno qualcosa di tecnologico e di nuovo come piace particolarmente ai mercati direi di non inutili chiacchiere passerei subito la parola dei fisio oggi vedremo un titolo che nel 2020 ha fatto davvero molto bene forse uno dei titoli più performanti in assoluto vedremo in particolare l'importanza del concetto di speculazione si parla tanto di trading versus speculazione versus investimento ma in realtà è solo un discorso di di lessico perché di fatto chiunque compri o venda un titolo a prescindere dalla durata dell'investimento da quanto tempo decide di volerlo in portafoglio quella compra vendita in inglese si sarebbe to trade quindi in realtà tradare e investire sono esattamente la stessa cosa quello che probabilmente cambia è in realtà l'intento di quel tipo di speculazione ok e vedremo in realtà quanto è importante oggi farsi questa domanda ma soprattutto darsi una risposta in base soprattutto a quello che ha fatto questo titolo perché tante volte sentiamo che dovremmo metterci in portafoglio dei titoli per i quali abbiamo fiducia che magari stanno anche andando davvero molto bene e poi non venderli mai più in realtà vedremo con questo titolo nello specifico con quest'analisi perché è una procedura che secondo noi non è vincente nel lungo termine ciao e bentornato ciao Gian ciao a tutti grazie per la tua per la tua introduzione sì retractable technologies è un titolo protagonista del 2020 ovviamente come altri che abbiamo già analizzato in precedenza ma come stavi dicendo tu nella conclusione della tua introduzione non significa che un titolo che ha fatto bene per qualche mese per alcuni mesi vada tenuto in eterno in portafoglio e retractable technologies è un esempio molto molto chiaro in questo senso ok prima di partire con l'analisi vera e propria a livello grafico diciamo qualcosa su questa azienda innanzitutto un'azienda non recentissima in termini di fondazione visto che è stata creata nel 1994 meglio incorporata nel 1994 come retractable technologies ma il suo fondatore in realtà aveva avuto un'illuminazione già qualche anno prima su quale potesse essere il cavallo di battaglia dell'azienda che aveva in mente di fondare il fondatore infatti tale Mr. Shaw era un ingegnere meccanico parliamo del 1989 quindi fino agli anni 80 un tempo che appare ormai molto molto lontano dai nostri giorni Mr. Shaw stava guardando un reportage in televisione quindi un telegiornale diciamo gli anni 80 sappiamo lo do per scontato a meno che tu non sia troppo giovane quindi dai 20-25 in giù è stato il periodo probabilmente peggiore per quanto riguarda il virus HIV, l'AIDS i contagi appunto che sterminarono una generazione in quegli anni durante un reportage appunto in televisione il giornalista intervistò un medico un medico di un ospedale statunitense, di un ospedale americano che appunto con grande dispiacere, rammarico, terrore negli occhi perché a quel tempo parliamo appunto del 1989 se ricordo bene l'AIDS era diventato un tema popolare soltanto da qualche anno ora non vorrei dire Fesiria e Gian tu magari correggimi se sei più informato di me il virus era stato isolato e denunciato tra virgolette pubblicamente soltanto nel 1984 quindi si parlava di qualcosa di nuovo appunto che incuteva molta paura, molto timore nelle persone e questo medico sfortuna sua era rimasto contagiato proprio durante il suo lavoro quindi durante l'esploitazione del proprio dovere di medico mentre utilizzava una siringa appunto su un paziente contagiato dal virus dell'IKV si punse, ok, con l'ago contaminato e divenne a sua volta siero positivo e durante l'intervista in televisione il medico denunciò appunto il suo ramarico il suo dispiacere per il fatto che quelle persone che creavano i dispositivi medici in quel caso una siringa, quindi parliamo di ingegneri non pensassero alle ripercussioni, ok, che le loro scelte, le loro decisioni a livello progettuale potessero poi avere effettivamente nella vita di tutti i giorni sulle persone che con gli strumenti li utilizzavano quindi sia i medici e ovviamente sia i pazienti quindi il mister show si sentì toccato in prima persona essendo lui un ingegnere meccanico e cominciò a pensare a un qualcosa che potesse andare a risolvere il problema denunciato dal medico quindi già qui abbiamo un primo punto in comune con tanti altri titoli che abbiamo visto durante questa videoserie ovvero il fatto che un'azienda per poter prosperare deve andare a proporre un prodotto o un servizio che risolva un problema ma non basta che risolva un problema, quel problema deve essere anche sentito dal pubblico quindi ci deve essere effettivamente una domanda per quel bene o quel servizio che viene offerto questo tuttavia non si traduce per forza in un titolo azionario che poi fa bene e nel caso di Retractable Technologies questo appare evidente dal grafico visto che prima dell'esplosione che abbiamo visto nel 2020 il titolo era un titolo zombie c'era un titolo che non stava andando da nessuna parte era addirittura sotto i due dollari si muoveva su dei livelli di prezzo molto 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 bassi cosa è successo quindi nel 2020? nel 2020 abbiamo detto già tante altre volte abbiamo avuto lo scoppio della pandemia di coronavirus ok quindi di covid-19 mano a mano che sono passati i mesi le aziende di biotech, le case farmaceutiche hanno cominciato a proporre delle soluzioni soluzioni sotto forma di vaccino e i vaccini almeno fino a questo punto non so se mi è sfuggito qualcosa nell'ultime settimane si somministrano appunto sotto forma di iniezioni ok e guarda caso indovinate un po' qual era l'azienda leader che veniva percepita almeno come leader nell'offerta di siringhe non siringhe comuni mi riallaccia a quello che stavo dicendo prima sul discorso del dottore e del paziente nel 1989 sono delle siringhe ed erano delle siringhe quelle presentate negli anni precedenti che hanno la peculiarità appunto di avere un ago che si ritrae in maniera automatica ecco il perché del nome dell'azienda quindi in questo modo l'azienda promette di ridurre o evitare completamente il rischio di infiezione per il paziente e anche per il medico che sta utilizzando quel dispositivo medico appunto quindi nel 2020 una volta che sono stati creati i vaccini contro il covid-19 servivano anche i dispositivi per poterli somministrare e a ritratta Voltechnology si è fatta trovare pronta in questo senso visto che nella testa diciamo di chi doveva effettivamente ordinare le forniture per somministrare i vaccini veniva percepita come leader nella sua industria e il fatto che veniva percepita come leader della sua industria è evidente dal grafico visto che da titolo zombie da titolo morto Ritratta Voltechnology si è rivelato essere uno dei leader dell'anno scorso quindi siamo passati da una quotazione intorno a un dollaro due dollari al massimo fino a toccarne una di 24-25 parliamo di quell'area di prezzo come valore massimo da quel punto in poi lo vediamo più avanti il prezzo non è riuscito a salire nuovamente nonostante siamo nel pieno delle campagne vaccinali nei diversi paesi del mondo quindi Gianna quello che tu dicevi alla fine della tua introduzione penso che non possa essere assolutamente contestato quindi nel senso nonostante la situazione da fuori possa apparire come la migliore per un'azienda che produce dispositivi medici in particolare siringa in questo caso il prezzo del titolo non sempre o meglio nella maggior parte dei casi in realtà non segue questa logica no? Assolutamente corretto intanto grazie per la tua molto interessante interessantissima spiegazione di quello che l'azienda fa di come è nata e di quale necessità risolve quello che incuriosisce particolarmente piuttosto che partire sempre dal capire come siamo entrati al mercato come avremmo potuto farlo spiegare alle persone come dovrebbero secondo quelle che sono poi le regole del trend position quindi la disciplina che abbiamo fondato direttamente e che attraverso il protocollo Raptor diventa una strategia poi pratica dalla ricerca alla selezione alla gestione quindi acquisto gestione e poi vendita dei titoli che per noi sono quei titoli che vengono definiti growth in realtà ci sia qualcosa di più importante io credo che al di là di tutto questo è fondamentale che chi ci ascolta si convinca di alcuni punti fondamentali ovvero che noi possiamo avere tutto noi sappiamo che storicamente un titolo che cresce del 300% e oltre quindi parliamo di un titolo che triplica generalmente e oltre ha delle caratteristiche in comune rispetto a tutti gli altri abbiamo parlato di un prezzo che si trova sopra delle determinate medie abbiamo parlato di un prezzo che si comporta in maniera molto precisa mi riferisco alla contrazione di volatilità quindi una volatilità molto bassa dei range molto stretti tra le varie settimane e le varie giornate a ridosso di livelli importanti che possono essere appunto le medie mobili di cui abbiamo parlato poco fa o dei numeri tondi o dei livelli di supporti e resistenze psicologici importanti sappiamo che hanno dei dati fondamentali di un certo tipo quindi earnings e vendite che crescono ad una certa velocità di tutti questi dettagli poi di tutti questi dettagli ne parliamo in maniera molto chiara e molto specifica anche nel nel nostro libro si trova il link al di sotto di questo video come sempre ma è anche vero qualcos'altro che io al momento non ho i dati degli earnings e delle vendite del 2015 del 16 17 18 e così via ma se anche fossero stati positivi vediamo benissimo che l'azienda non ha cambiato tipo di prodotto improvvisamente dal 2020 in poi quello che è cambiato è che agli investitori istituzionali quel determinato titolo ha iniziato a interessare quindi è iniziato a diventare interessante per gli investitori istituzionali per quale motivo probabilmente per gli earnings probabilmente per le vendite probabilmente per tantissimi altri motivi però la necessità non è cambiata quindi come faccio io a sapere se questo titolo nel 2015 passerà da 6 ai 24 dollari oppure separerà dai 6 ai 45 centesimi perdendo di fatto 90-95% della propria valutazione azionaria non lo posso sapere l'unica cosa che posso fare è interpretare attraverso i grafici quello che gli investitori istituzionali stanno facendo ed è per questo che in realtà dire che l'analisi grafica non viene utilizzata dagli investitori istituzionali dalle banche d'affari prima di tutto non è vero e se anche fosse vero per noi diventa irrilevante perché le banche d'affari prendono delle decisioni basate su delle motivazioni che probabilmente sono totalmente diverse rispetto a quelle che sono le motivazioni gli interessi di un trader privato ma un trader privato l'unico modo perché possa capire se le istituzioni stanno comprando quel titolo e perché è importante saperlo è importante perché se le istituzioni quel titolo lo stanno comprando il titolo passa dai 2 ai 20 dollari in 6 8 9 10 18 mesi quel che è se non lo stanno comprando o è un titolo neutro che quindi non va da nessuna parte oppure lo stanno vendendo e se lo stanno vendendo più di quanto lo stanno comprando il titolo crolla quindi è fondamentale questo passaggio perché noi dobbiamo sempre ricordarci che le nostre opinioni e vi ricordo che il valore intrinseco del titolo è un'opinione non è un dato di fatto anche se Warren Buffett a dirlo il valore di quel titolo è un'opinione magari un'opinione basata su dati magari un'opinione basata sicuramente su dei numeri oggettivi ma rimane un'opinione perché magari è anche un'opinione corretta ma se l'opinione della maggior parte degli investitori è diversa oppure magari l'opinione è anche corretta ma agli investitori non interessa che quel titolo è sottovalutato che abbia un prodotto fenomenale che abbia gli earnings che crescono del 300 500 700 1000% allora non dovrebbe interessare nemmeno noi ecco perché è fondamentale avere veramente tutto è fondamentale avere i dati fondamentali ma soprattutto è fondamentale capire attraverso il grafico quando gli investitori stanno decidendo di comprare è il primo momento in cui vediamo che gli investitori stanno decidendo di acquistare è prima in questa metà del 2019 dove però ci sono dei livelli di overhead supply molto importanti e poi subito dopo quello che vediamo invece è grazie al crollo del 2020 perché iniziamo a vedere qualcosa di molto interessante che abbiamo già visto in tutti gli altri titoli ovvero questa forza relativa quindi il titolo crolla crolla insieme al mercato eppure la forza relativa ci dice attenzione perché questo titolo nonostante il crollo nonostante la debolezza dei mercati generali nonostante tutto è un titolo che sta battendo tutti gli altri ok e questo è il primo segnale che ci dice gli investitori perché questo è questa è la traduzione di quello che ho detto fino a questo momento che vado ad aggiungere rispetto a quello che ha detto anche i figli questo è il momento in cui noi sappiamo con certezza che c'è un qualche tipo di interesse istituzionale verso questo titolo e da qua dobbiamo partire per capire se ci saranno delle opportunità di ingresso che ci daranno un vantaggio dove con vantaggio intendiamo un rischio che è quantificabile che è calcolato e che quindi ha anche un'indicazione di massima di qual è la perdita massima che possiamo accettare e che ha un potenziale di crescita il potenziale di crescita dovuto al fatto che sappiamo che il titolo sta battendo tutti gli altri e se il titolo sta battendo tutti gli altri vuol dire che quel titolo è acquistato mentre tutti gli altri sono venduti o la maggioranza degli altri titoli sono venduti si forma una base che è questa grandissima cap con addirittura uno shake out una cap with handle molto atipica direi ma non è importante chiamarla cap with handle chiamarla double bottom chiamarla cap with out handle quello che sappiamo è che c'è per la prima volta nella giornata dell'otto aprile duemila e venti due giorni dopo un segnale molto importante che è arrivato dal mercato che si chiama position day da qui nasce tutta la disciplina del trend positioning il prezzo chiude sopra i livelli di questa base confermati precedentemente dalla forza relativa confermati dai volumi confermati dal fatto che andiamo a segnare nuovi massimi e qui si segna il primo specific buy point che ci dice è il momento di entrare al mercato sì già quindi ancora una volta abbiamo visto come in realtà nulla viene lasciato alle congetture diciamo non si aspetta sempre un segnale di tipo tecnico prima di entrare effettivamente al mercato nonostante magari dal punto di vista fondamentale sia per quanto riguarda crescita di vendite ed EPS e del tipo di business che l'azienda fa che sembra magari tagliato proprio si misura per quel particolare orizzonte temporale che stiamo vivendo quello non è sufficiente per poter prendere posizione sul mercato e questo penso l'abbiamo visto con molta chiarezza anche negli altri video quindi primo segnale che effettivamente ci fa aprire gli occhi proprio a livello di trade vero e proprio prima ancora del setup che può essere poi una cap può essere una cap guidendolo come dicevi tu non dobbiamo fare i maniaci dei pattern grafici quindi fissarci su quale sia il nome della figura che appare è più che altro la forza relativa è da lì che vediamo che capiamo che il titolo potrebbe essere o è già uno dei leader del nuovo ciclo di mercato che sta partendo e questo è successo per retractable technologies nonostante quello che poi il titolo ha fatto negli ultimi mesi nelle ultime settimane nel 2020 è stato uno di quelli che ha condotto il mercato a rialzo e vediamo che ricordo questo articolo scusate voglio interromperti un attimo su questo dettaglio molto importante l'hai ritoccato e voglio ripassarci per la terza volta in relazione al fatto che capuitendo il cap double bottom flat base è importante semplicemente per riconoscerli ma non è importante il nome che gli diamo perché quello che a noi interessa è capire quale è la psicologia dietro questi pattern che poi si chiami in un modo o in un altro non è importante ciò che è importante però è riconoscerli e che siano matematicamente e oggettivamente riconoscibili perché qualche giorno fa leggevo in qualche da qualche parte in giro nel web qualcuno che chiedeva un'opinione relativamente a un pattern che è molto famoso che noi non utilizziamo perché storicamente non ha dato mai nessun tipo di vantaggio e non ha mai costruito una base da cui i rally sono partiti che è il testespalle ok e qualcuno diceva ha disegnato graficamente questa sorta di testespalle e chiedeva quindi opinioni alle altre persone del tipo secondo voi è un testespalle e se ne sono lette di tutti i colori secondo me è un testespalle secondo me è troppo lungo è troppo ampio per essere un testespalle secondo me invece è corretto secondo me manca una gambetta secondo me manca la cosa secondo me manca la testa e si capisce perché poi giustamente qualcuno derida gli analisti gli analisti tecnici perché l'analisi tecnica è diventata qualcosa di artistico in realtà non c'è nulla di artistico perché noi sappiamo che una flat base è una flat base soltanto se dura almeno un tot di settimane se la sua profondità dal massimo al minimo è al massimo di una un'altra percentuale così come sappiamo che la capuitendol è ampia al massimo tra il 30 e il 35 per cento che dura almeno sette settimane eccetera 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 ecco perché quello che noi facciamo dal punto di vista dell'analisi tecnica è totalmente diverso da quello che fa chiunque in Italia ma anche in realtà un po' in giro per il mondo a parte chi ha messo le basi no? e le radici poi per quella che è la la nostra disciplina che è il trend positioning che parte dal trend following tendenzialmente no? e questo è molto e questo è molto importante proprio per questo motivo perché non dobbiamo inventarci nulla e il fatto che non ce lo dobbiamo inventare non dipende dal fatto che io e te un giorno ci siamo svegliati e abbiamo detto la capuitendol ci piace di più se dura almeno sette settimane no è che da un secolo ormai c'è chi prima di noi ha fatto dei determinati studi ha trovato che la maggior parte dei trend che partono in una certa maniera e con tanta forza partono dalle capuitendol delle fleet base e delle double bottom che hanno determinate caratteristiche e non si può interpretare perché un double bottom è un double bottom soltanto se la seconda gamba è più bassa della prima è un double bottom se è lungo almeno x settimane è un double bottom se la distanza e il range tra il massimo e il minimo è al massimo di un'altra un'altra percentuale quindi non c'è nulla di interpretabile o lo è o non lo è ecco perché è fondamentale comunque fare questo passaggio e ricordare alle persone che ora sembrano dei disegni fatti a caso ma in realtà non lo sono quelli che vedete davanti a voi sono dei disegni che hanno che hanno delle caratteristiche molto molto specifiche ok per conoscere queste caratteristiche trovate il link del nostro libro qua sotto e vi portate a casa sia il libro con tutti i bonus dove andiamo a spiegare tutti i dettagli di questo passaggio scusa Efit ti ho interrotto no 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 però mettere veramente un punto esclamativo su questo su questo punto che secondo me è fondamentale perché chi ci ascolta vede dei disegni e ovviamente inizia a dire ok sì questo è un altro che disegna un po' come gli pari cioè la famosa tecnica ad katsum no no è fatto è fatto molto bene in realtà interrompermi perché questo è un passaggio molto molto importante cioè non si tratta di imparare a memoria quella o quell'altra figura grafica quindi è lo stesso discorso che facciamo sulle sulle candele no poi a una dimensione più ampia si applica anche ai pattern grafici ai setup veri e propri è la stessa identica logica che c'è dietro non è il tanto dare il nome a quella figura a quell'altra appunto come dicevo ma è capire la psicologia che sta dietro quindi che cosa c'è dietro l'azione del prezzo e dei e dei volumi e quindi puoi agire di conseguenza c'è l'esempio più più classico rimanendo in tema di barre o di candele prechiusa le candele è quella di una giornata negativa per noi una giornata negativa nel senso una barra negativa nonostante abbia il segno o meno non per forza in realtà viene considerata in modo negativo appunto che è tutto un altro tipo di analisi che andiamo a fare per capire in realtà che cosa è successo all'interno di quella giornata cioè come si sono comportati i venditori e i compratori chi è che in realtà ha avuto il comando della giornata nonostante quella barra abbia il segno o meno davanti ed è questo il ragionamento che poi serve fare per arrivare ad avere un'analisi e una comprensione di più ampio livello di quello che sta succedendo all'interno di un grafico per un determinato titolo e poi ricordiamo sempre che interpretare perché altrimenti cadiamo nuovamente nell'opinione interpretare non vuol dire dare un'opinione perché è un'interpretazione ovviamente è un'interpretazione personale ma in realtà l'interpretazione è qualcosa che mette due cose in relazione cioè nel nostro caso il prezzo con i volumi per esempio e il prezzo non solo come prezzo ma in base anche al range di quel tipo di giornata all'interno di quella barra per esempio che può essere giornaliera o settimanale quindi anche in quel caso è un'interpretazione che però è un'interpretazione oggettiva quindi non è mai un'interpretazione personale perché faccio per dire una barra che chiude in negativo rispetto all'apertura ma chiude sopra il 50% del range giornaliero con volumi sopra la media con un rimbalzo su una media mobile quella è una giornata positiva anche se il segno è meno ed è un dato oggettivo che quella sia una giornata positiva è negativa rispetto all'apertura o magari è negativa matematicamente rispetto al giorno precedente ma il valore di quella barra per quella giornata presa da sola perché il meno 4% faccio per dire di una barra è in relazione a qualcos'altro meno per cento rispetto alla giornata precedente o meno 4% rispetto all'apertura ma se prendessimo soltanto un grafico lineare per esempio dove non abbiamo l'apertura non abbiamo i minimi non abbiamo i massimi abbiamo soltanto la chiusura e andiamo a vedere la chiusura ecco che quella chiusura diventa qualcosa che è diverso dal dato precedente meno 4% e che quindi ha un significato totalmente diverso quindi molto importante anche questo passaggio sì assolutamente sì Gianni e torniamo un attimino al grafico in realtà sul grafico poi non c'è tantissimo da dire di nuovo rispetto alle precedenti analisi questo è un bene vediamo che dopo che si forma il pattern durante il crollo degli indici tra febbraio e marzo del 2020 oltre al fatto che la forza relativa segna dei nuovi massimi rispetto al mercato in generale segni dei nuovi massimi anche prima che lo faccia il prezzo del titolo vediamo che come spesso accade anche le medie mobili cominciano a riordinarsi tra loro quindi vediamo che le medie di breve brevissimo e di medio termine cominciano a disporsi in maniera ordinata quindi quelle di breve e brevissimo vanno sopra quelle di medio termine invece e questo segnala appunto l'inizio del momentum vero e proprio per questo titolo ovvero della fase 2 di fase 2 vediamo che è un rialzo molto molto importante all'inclinazione del reglie quasi verticale e vediamo che in appena tre mesi tre mesi e mezzo quanto è il titolo passa dall'area dei due dollari circa quindi dall'area della prima rottura del primo specific by point arriva all'area dei 13 e 65 prima di affrontare il primo ritracciamento importante anche in questo caso siamo a settembre il titolo arriva in anticipo rispetto al mercato ma stavolta in negativo visto che comincia a correggere prima del ritracciamento che interesserà poi l'indice all'inizio del settembre del 2020 ma nonostante questo durante tutto l'up trend precedente aveva dato comunque ben quattro opportunità di ingresso a mercato e vediamo che sono state delle opportunità di ingresso a mercato molto molto buone dalla tenuta appunto delle medie mobili quindi vediamo che il prezzo ha ritracciato su questi livelli di supporto dinamico e sui numeri tondi vicini quindi vediamo ad esempio che il primo ritracciamento si spinge sull'area dei dei tre dollari esatto quindi siamo a maggio circa quindi inizio maggio esatto siamo lì e medie mobili di breve brevissimo termine ovviamente secondo ritracciamento dal quale poi uscirà fuori un altro specific by point ancora una volta nell'area di un numero tondo quello dei 5 dollari e ancora sull'area delle medie mobili e vediamo che anche il terzo effettua la stessa identica price action quindi abbiamo quattro specific by point che sono praticamente la fotocopia l'uno dell'altro arriva poi la resistenza in area 1365 qui il ritracciamento è decisamente molto molto importante perché vediamo che vengono rotti numerosi livelli di supporto quindi sia dinamico parliamo delle medie mobili che cominciano a cambiare inclinazione sono nuovamente disordinate quindi abbiamo le medie di breve di brevissimo termine che vanno sotto a quelle di medio termine quindi questo è un altro segnale che ci dice che non è certo il momento migliore per essere a mercato o tanto meno per cominciare una nuova posizione perché la fase 2 di fase 2 è ormai terminata e lo vediamo che la fase 2 di fase 2 è ormai terminata da quello che succede poi sulla parte destra del grafico qui il titolo cambia la personalità abbiamo delle false rotture abbiamo dei pattern dei setup che magari offrono degli specific by point ma questi specific by point poi falliscono perché non c'è lo shake out che invece avevamo visto sugli specific by point precedenti quindi il titolo continua a portarsi dietro anche tutti i compratori più deboli o meglio detentori più deboli ovvero quegli investitori quegli speculatori che non sono disposti a portare il titolo in alto e vediamo infatti che dopo un rally fino all'area dei 20 21 dollari il prezzo comincia nuovamente a ritracciare quindi Gianna anche in questo caso il cambio di personalità possiamo dire che non arriva isolato quindi ci sono tutta una serie di di segnali che ci devono mettere in allarme fra tutti il primo ritracciamento che va a rompere le medie mobili diversi livelli di supporto e poi quello che avviene sulla parte destra del grafico ovvero il cambio di personalità del titolo con delle false rotture e degli shake out che adesso invece mancano sì assolutamente poi noi per correttezza abbiamo messo che ci sono questi due pattern qui all'interno per spiegare tecnicamente che cosa sta succedendo ma di fatto arrivati a questo ritracciamento questo diventa il nostro punto di uscita il punto di prendere profitto quindi vediamo che il titolo è passato dagli 1,80 ai 7,8 9 dollari dove per la prima volta c'è questa rottura della media 50 periodi con le medie che iniziano letteralmente a invertire la loro rota incrociarsi diventare diventare disordinate e addirittura il prezzo che si porta verso la media a 200 periodi ma di fatto se andiamo a considerare tutta questa base questo diventa il nostro buy point quindi in realtà avremmo evitato tutti questi tutti questi ingressi è interessante secondo me dal punto di vista tecnico vedremo un titolo la prossima settimana che sarà Fiverr che si è comportato esattamente nella stessa maniera e quando parlo della stessa maniera mi riferisco al conteggio delle basi ora noi qua abbiamo quattro basi abbiamo il primo il secondo il terzo è il quarto è la quarta base quindi come vedete poi al di là dal fatto che siano cap capuitendo flat base double bottom o quant'altro parliamo di basi e sono quattro basi quello che sappiamo e che vediamo e che abbiamo visto studiando veramente tutti i leader è che la quarta base spesso e volentieri è quella quella dell'ultimo rally prima del prima del crollo in che senso nel senso che tutta questa che vediamo qua è una fase due ma soltanto questo pezzettino è la fase due di fase due quindi tutta questa è la fase due ma questa di cui parla anche Weinstein nello specifico ma questa è la fase due di fase due che abbiamo trovato noi abbiamo isolato noi quasi letteralmente come fosse un virus in laboratorio quindi lo abbiamo isolato e sappiamo che la fase due di fase due ha delle caratteristiche molto specifiche sia del conteggio delle basi sia dal punto di vista dei fondamentali sia dal posizionamento delle medie mobili e quello che sappiamo appunto è che dopo la quarta base il titolo tende mediamente a crollare poi ci sono titoli che ne hanno tre ci sono titoli che ne hanno di più ma mediamente la quarta base è il punto dove probabilmente se ho già investito su quel titolo e se non ce l'ho più in portafoglio magari tendo a lasciarlo un po' da parte e andremo a vedere Fiverr si è comportato esattamente nella stessa maniera ma soprattutto andiamo a vedere che cosa succede tutte le volte che c'è la rottura di una base e quindi di uno specific buy point partendo da questa prima base vediamo che c'è questa bella ampia salita quindi da 1,70 a 3,50 quindi c'è un più 100% poi c'è un ritracciamento molto piccolo poi si passa dai 3,50 ai 6 dollari quindi quasi un altro 80% probabilmente si rimbalza di nuovo si sale di un altro 50 60% quindi dai 6 agli 8 dollari rimbalzo e poi si passa nuovamente dagli 8 dollari ai 13 dollari quindi un altro 50% ad un certo punto vediamo che ci sono queste prime rotture la media a 21 periodi e poi la media a 50 periodi qua noi sappiamo che la personalità è cambiata è molto diversa rispetto a quella che avevamo precedentemente in particolare lo vediamo quando è questo il motivo per cui ho segnato anche queste basi iniziamo ad avere degli specific buy point dove vediamo che il prezzo rompe non solo torna indietro in maniera superiore rispetto a quello che era stato il rialzo prima vedete avevamo quasi un due volte la lunghezza di risalita in realtà è molto di più perché se passiamo da 3 e 50 ai 3 dollari stiamo parlando di un 15 20% di ritracciamento ma il titolo era salito del 100% in questo caso vediamo che il titolo passa dai 9 ai 14 e dai 14 ai 9 di nuovo quindi il ritracciamento non solo è più ampio della salita precedente ma addirittura rientra nella base quindi vediamo che il prezzo è tornato dentro la base e poi di nuovo il prezzo rompe il tempo di una giornata e il giorno dopo il prezzo rimbalza nuovamente dentro poi sale di nuovo segna nuovi massimi e dopo una decina di giorni il prezzo è di nuovo dentro quindi vediamo che prima il titolo saliva rimbalzava in maniera molto composta sempre sopra la media 21 periodi e poi boom esplosione ritracciamento composto con volumi bassi e poi boom di nuovo esplosione ritracciamento un terzo un quarto rispetto all'esplosione precedente e di nuovo esplosione questa volta il contrario è risalita discesa risalita discesa risalita discesa quindi si capisce molto 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 bene che il titolo sta cambiando personalità quindi se io non fossi uscito qua perché magari voglio rimanere in tutta la fase 2 e piuttosto che fare come io e noi preferiamo prendiamo tutto questo profitto usciamo sotto la rottura della media 50 periodi eventualmente decidiamo di entrare dopo non è sbagliato che qualcuno magari decida di mantenere quella che viene chiamata la core position quindi la posizione iniziale la posizione originale che è quella che ha più profitti e quindi quella che ha il cuscinetto di profitti maggiore decide magari di tenere un pezzettino di questo di questo titolo perché dice ok sai cosa io mi porto a casa tutti questi profitti però credo nel titolo credo che abbia il potenziale per andare bene non faccio scommesse però un bel 7 8 5 10% di position size me lo tengo su questo titolo e uso anziché la media 50 periodi magari uso quella a 200 periodi ok e quindi magari ho deciso di rimanere su questo titolo ad un certo punto però vediamo appunto che questa personalità sta cambiando e qui dovremmo iniziare a prendere delle decisioni e lasciare il meno possibile anche perché se non lo decidiamo qua poi siamo obbligati a fare qualcosa di molto meno interessante ovvero chiudere la posizione con il prezzo rompe la media 200 periodi e se andiamo a vedere questo livello la chiusura è praticamente al di sopra veramente di pochissimo rispetto alla chiusura precedente e quindi la domanda da cui siamo partiti inizialmente è che senso ha tenere un titolo da settembre ad aprile dell'anno successivo quindi parliamo di sette mesi perché io dovrei tenere un titolo sette mesi in portafoglio per poi chiuderlo praticamente allo stesso livello che avrei potuto chiuderlo sette mesi prima prendendo il profitto eliminando lo stress di avere un titolo che non va da nessuna parte ma soprattutto allocando quel denaro quel 10 15 per cento 5 per cento quello che è su un altro titolo che da settembre a marzo piuttosto che fare 10 per cento ha fatto il cento per cento sembrano banalità sembrano delle cose che magari state ascoltando per la prima volta e domani le avete dimenticate se volete fare il salto di qualità sui mercati e portare i vostri risultati da 0 a 100 il consiglio è riascoltatevi riascoltati quello che abbiamo detto in questa lezione 3 4 5 volte perché come dicevo giustamente Fisio non è il discorso degli specific buy point che sono sempre gli stessi e capire quando cambia la personalità del titolo perché sta cambiando quella personalità e quindi torniamo al discorso principale della psicologia che non è altro che domande d'offerta assolutamente sì Gian grazie penso che questa sia una degna conclusione in realtà per questo titolo particolare più che altro rispetto a quello che fa per il fatto che nonostante la richiesta che ci sia di dispositivi medici in quest'ultimo periodo a livello di titolo azionario non stia brillando in maniera particolare quindi ancora una volta distinzione tra azienda e titolo dell'azienda stessa quindi non è automatico che una buona o un'ottima azienda abbia anche un buon o un ottimo titolo azionario è vero invece che solitamente i leader di mercato hanno delle determinate caratteristiche che appunto li rendono dei leader prima che la maggior parte delle persone se ne accorga e sono le solite caratteristiche che abbiamo appunto discusso all'interno di questi video e che sono anche spiegate in maniera molto più esaustiva molto più completa anche all'interno del libro quindi Gian se tu non hai altro da aggiungere direi che anche per retractable technologies abbiamo detto tutto quello che c'era da dire in realtà assolutamente quindi rinnoviamo il l'invito ad iscriversi al nostro canale mettere un bel polliccio cliccare sul pollicione qua sotto e eventualmente condividere il video e come sempre raggiungerci nel nostro gruppo gratuito su facebook Gian Massimo Usai Trend Positioning Research dove ovviamente ci sarà anche Fisio e condividiamo quotidianamente tutta una serie di lezioni dati e analisi importanti quindi mi raccomando studia bene questo video presta particolare particolare attenzione ai dettagli al modo in cui un titolo cambia personalità all'inizio e alla fine del suo trend nulla è garantito nulla è sicuro ma quello che ci interessa fare è portare le probabilità a nostro favore controlla il rischio perché come dico sempre se ci prendiamo cura del rischio il rischio si prende cura dei nostri profitti quindi grazie per essere stato con noi fino a questo momento grazie a te come sempre per l'ottimo supporto l'ottima analisi dal punto di vista fondamentale e storico dell'azienda noi ci vediamo alla prossima analisi delle superstock ciao e a presto ciao a presto ciao a presto